Garantire l'integrazione tra istruzione, formazione, orientamento e politiche del lavoro per interpretare le reali vocazioni dei territori tenendo insieme formazione scolastica e domanda del tessuto socio-economico locale. A questo deve mirare la riforma della scuola adeguandosi al cambiamento e dalle necessità. Ne ha parlato a Martina Franca in un incontro pubblico il sottosegretario all'istruzione, senatrice Angela Dondia. Abbiamo bisogno di creare questi legami per avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro. La scuola deve avere una visione, quella che forse riescono ad avere poco magari le imprese, non perché non ce l'hanno ma perché sono prese da altri problemi giornalieri. La scuola dovrebbe avere la visione del futuro, di quello che si farà di qua a vent'anni. La scuola in rete con il territorio dunque che sia attenta alle richieste del mercato del lavoro e le a secondi per evitare la fuga dei cervelli. Noi abbiamo solo cervelli che vanno e mai cervelli che vengono. Invece noi dobbiamo imparare a far circolare i cervelli, a far circolare le idee, a far circolare i nostri giovani ma dobbiamo anche tentare di avere qua quelle grandi intelligenze che ci servono per guardare il futuro e per competere con quei grandi paesi che oggi ormai sono affacciati nel mondo globale e con i quali i nostri giovani sono chiamati a doversi confrontare.